Sei artisti di diversa provenienza e formazione, dai nomi noti ai docenti dell'Accademia di Belle Arti agli artisti emergenti, si cimentano con fantasia in piccoli quadri che vanno ad arricchire la rassegna 20 Cube, segni permanenti dinamici realizzata dal Centro di Cultura Contemporanea CCTO di Torino e allestita fino al 9 novembre all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale. 20 Cube è una rassegna d'arte democratica 3.0, che cosa significa? Che la vecchia rassegna dove si mandano i quadri e una critica li premia e li appende a un muro è ormai sorpassata. Ci sono quadri, ma non solo quadri, molte molte opere, ricerchiamo opere di qualsiasi tipo, nei quadri in particolare il formato è il 20-20 dove democraticamente si trovano a fianco professori dell'Accademia, grandi nomi dell'arte contemporanea ed esordienti. Sarà poi un percorso interno che simula quello del mercato reale a definire poi il successo o meno di questi artisti.